Mi scusi, questo è il suo studio? Sì, perché? Vede, lei è il quinto analista dal quale vado. Sentite le voci. Vedrai, Edoardo, diventeremo grandi amici. Frequenti un sesso uomini, per caso? Io non sono uno di quegli stronti pisce inconscio dai quali sei stato finora. Io sono Ettore Maria Zagobi. Devi rilassarti, devi sentirti a tuo agio. Io però ero nudo. E' meravigliosamente bello, ovviamente. Il vostro era un rapporto malato. Cerco di immaginare come hanno i capezzoli. Se piccoli, grandi, lunghi, a piappigli, nientrati, a fetta di salame. Occhetti di gonadi, tu soffri d'ansia. Freud, Freud, Freud. Sì, mi sembra davvero già sentito nominare, tipo strano. E basta, cazzo! Mi stai torturando? Clima amichevole, capisci? Se ad amo quel giorno si fosse mangiato una scatola di fagioli, anziché quella a cazzo di mela, sì, forse avrebbe scorreggiato tutta notte. Ma noi oggi vivremo sicuramente meglio.